Ragazzi, parlo piano, vi spiego perché. Perché non lo sapessi, mi sono trasferito con Reckings. Se questo video deve salivare a 10.000 mi piace, nel prossimo video io faremo uno scherzo. Parlo piano perché lui è nell'altra stanza, quindi mi sentirebbe. Tanto so quando guardo i video perché non viene frega niente di i miei video, giustamente. 10.000 mi piace in questo video qua. Faremo uno scherzo a Reckings. Quindi, ok, scrivetemi nei commenti un'idea. Io ho già qualche idea, si entra l'acqua. Ok, avevo un po' di idee, però scrivetemelo nei commenti. Appena siamo a 10.000, precisi, comincerò a registrare tutto quanto. Ovviamente farò l'anteprima su Instagram, quindi farò delle storie dove vi spiegherò come organizzano lo scherzo. Andrea Piazza, trattino passo, su Instagram. Iscrivetevi tutti quanti al canale, mi raccomando, perché molti di voi magari si stanno trovando disiscritti. Quindi date un'occhiata, è buono. Parlo piano perché di là mi sentirebbe. Quindi ragazzoli, mi raccomando, inserite il codice creatore Piazza Provini nello shop di Fortnite e taggatemi su Instagram. Buona visione, boys. Prima scecchinata, boys. Non mi pare tanto una scecchinata. C'ha il pinno d'occhio, è bello Fortnite che era comunque. Scusa, ritiro tutto bro. Allora, Savage, vabbè, c'era l'aereo. Vabbè, ha sculato, fra. Asculato, fra. Ma ragazzi, scrivetemi nei commenti la scecchinata più bella per voi con il... Sto video sarà tutto me che faccio facce strana e me che dico non è possibile. Ma ha sparato a caso. Ha sparato a caso. Io dicevo, scrivetemi in un minuto e la cecchinata secondo voi più bella. Voi avete mai fatto una cecchinata così, tra l'altro? Dovevo sapere quanti di voi sono riusciti a fare una cecchinata del genere su Fortnite. Ce ne sono alcune no sense comunque, raga. Lo vede? Ok, qui l'ha mirato, però. Questa è però cercata, guarda come lo mira. Spara a caso, poi. È imprendibile, fra, è difficilissimo. Gigi, gigi, vabbè, questa l'ha cercato, però. Questa l'ha cercato, il caccio, quant'era bella, ragazzi. Mi piaceva un sacco, sta arma. Easy! Bravo. Oh, endgame, fra. Bello, vabbè. Vabbè. Poi vi dirò anche io quella che mi è piaciuta di più. Anche se già la prima di replace di... Eh? Ah, ok. Perché non si vedeva nemmeno. Non si vede nemmeno, fra. Ma non l'hai tanto, cazzo? Ma non ho capito, fra. Quelle in aria sono ben lì, raga. Dai, fra. Quelle in aria sono troppo belle. Sull'aereo? No, scopo. Ok, c'è. Scusa. Io non sono mai riuscito a hitare... No, due, no way, se lo hitava di nuovo. Team di Tatman. Team è un grande, raga. Team è un grande. Un dice kill da Kotas, lui è dark. Ok, ma perché non si vedeva nemmeno la faccia. Non si vedeva nulla, quindi non poteva hitarlo. Mette il muro al volo. Bello. Prende anche l'altro. Ma non è cecchinata questa, fra. Cioè, credo. Ah, lo fa in no... Ma non ha... Ah, vabbè, vale quella in aria. Ok, vale quella in aria. Allora... Allora... Tu hai un falsetto micro, tra l'altro, raga. Tu hai un microfono, tu hai un webcam. Oh my god! Cimma, 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 cimma! Allora... Non è la bounce, è quella di ghiaccio. Vecchio Fortnite, ragazzi. Il vecchio Fortnite. Bello! Anche sull'altro? Nessuno che ne fa mai due di fila, eh? Al volo! Mamma mia! Che bodo! Ma da Kotas è ovunque, comunque, eh? Ma poi sempre che ti volano addosso. Vabbè, ok. Se lo fai una volta è culo, se la fai due volte è perché effettivamente lo vuoi fare. Che a volte può capitare che ti scura la cecchinata. Va bene, però se lo fai due volte e ti fila... Che figata che... L'isola che volava, la safe care è così, però non è così il cerchio. Nella mappa in alta destra è diverso. Allora, lo check attraverso l'edit del muro. Edit? Dov'è? Eccolo. Bello, vabbè. Mirato tanto, però ci sta. Questo è più figo, volete dire. Sempre da Kotas. Ce l'è da deploy. Ancora team? Con lupo, con poch. No way, no way. Vabbè. Fra. Scusa. Spacelion. Beh, mamma mia. Ma il loro reaction comunque, 206 metri al volo, raga. Sono tantissimi 206 metri mentre vola. Vabbè. Ha sparato un po' a caso. Ha sparato un po' a caso. Vabbè, ha sparato un po' a caso. Però ci sta. Non si vede nemmeno. No, questi sono tantissimi. Questi sono tantissimi. Ok, questi sono già di meno. Ok. Era destino, doveva vettarlo. Erano 102 metri, quelli di prima chissà quanti cazzo erano. Oh, barzone. 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 Bello, team. Guardi, ha fatto tante team con ninja comunque, eh. Sia team che da corto ce ne hanno fatte un botto. King Richard. Vediamo cosa tira fuori. Eh, di stantuccio pure questo, eh. Si sta allontanando ancora, tra l'altro. No, non itta l'altro. Mentre vola. Tutti mentre volano comunque, eh. Beh, sono quelle più fighe. Vabbè. 70 metri però figa, raga. Col caccia è ancora più OP. Col caccia. 240 metri col caccia è così, raga. Quanto è il cecchino che ti zooma di più col caccia è OP. Il lancia Nail. Fortuna che non esiste più sta roba. Scusa, Rage. No, però adesso quella che vince è quella del caccia di prima, secondo me. Raga, 260 metri lì. Bello però. Bello però. Mongral. Quanti metri sono? Non te lo dicevo ancora, però sono tanti. No! Stavo facendo il trick, il tizio. Poretto. 400. Quanti cazzo di danni fa comunque? Faceva che non c'è più. C'erano troppi danni, raga. No senso. Croc. No, fra 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 fra. Come sono 190? Sembrava... Ma impassibile. Ma fai, è un mostro. Lol. La fa subito? Ma non è questo, non può essere al volo. È fermo, bro. È bella, però. Era fermo. Dai, questa... Poteva anche... No way! È il primo che ne fa due di fila. Let's go! Bravo. Ok, bravo. Ritiro tutto. Bravo. Due di fila, sono il primo che ne fa due di fila in un Eclipse sola. Vai lupo. Vabbè. Vabbè. Ancora team? Uuuuh. Ne ha fatte un botto, team, di cecchinate al volo, raga. Ne ha fatte un botto. Bello. Beh, queste sono anche... Vangono come cecchinate, beh. Ah, ok, pensavo. Che cazzo gli danni faceva con il pompa lì? Uh... No. Ma? Serio? Non si vede nemmeno. Beh, si vede un po', però vabbè. No, al volo. Ok, c'è lui che salta. Eh, è difficilissima questa. Sennò a punterò puoi rip. È difficilissima fa sta roba, c'è. Ha riftato. Ha riftato. No, è rift altissimo. Spara, 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 ti prego. Come solo 132? Ma guarda la reaction. Ma sembravano molti di più. Lupo? Beh, lupo anche ne ha fatto un botto, vabbè. Allora, lupo ne avrà fatto 10, sono di stai, in sto video, raga, sono di stai compilation. Anche team, in realtà. Boom. Vabbè. Chi è lei? Non la conosco. Al volo, salta. Pff, bello. Oh my God! Secondo me queste qui sono le più complicate da fare, col cecco. Oh. Anche se è rabicino, queste qua, quelle con il caccia, le preferisco un botto di più. Beh. Quelle con il caccia mi piacciono di più perché mi l'ho zoomato, quindi è più complicato, raga. Bello. Bello. Oh my God! Yellow, per favore, mi aiuti, hai visto questo? No, fra. Quanti cazzo sono? 170, sembrava di più. Eh? Ma? Code. Sta baitando. Che l'ha predictato qua, OP? Tixi, di Vitality. Bello. Easy, dai, ci sta, fattibile. Mi... La reaction. No way. Va bene, ha fatto i 2000. Fortissimo. Non... Vediamo.